ciao a tutti nel video di oggi andiamo a fare insieme la lavatrice o meglio andiamo a preparare l'ammorbidente da usare poi per fare la lavatrice come sempre è molto molto facile abbiamo bisogno solamente di due ingredienti ma andiamo subito a vedere come prepararlo vado a versare nel mio barattolino o in una bottiglia un quarto di tazza di acido citrico e poi semplicemente vado ad aggiungere un litro di acqua in questo modo abbiamo diluito l'acido citrico al 5 per cento vado a mescolare bene per far sciogliere l'acido citrico completamente e a questo punto il mio abbormidente è già pronto ma se volete possiamo aggiungerci anche una profumazione o dell'olio essenziale e io ho scelto di utilizzare questi oli che vi ho fatto vedere in un video dedicato a wish e vado a versarlo appunto all'interno del mio barattolo in modo da rendere l'ammorbidente anche profumato a questo punto non mi resta che usarlo quindi una volta che ho caricato la lavatrice come di solito versato anche il mio detersivo abituale vado ad aggiungere anche questa soluzione di acido citrico al posto dell'ammorbidente quindi nello spazio dedicato all'ammorbidente all'interno della vaschetta e niente a questo punto faccio partire la lavatrice e aspetto che finisca prima di stenderla al sole e niente con questo è tutto io spero che il video vi sia piaciuto lasciatemi iscritto sotto nei commenti cosa ne pensate che prodotti per la lavatrice preferite lasciate un mi piace al video per sostenermi o se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video sul canale con questo è tutto noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao grazie a tutti